auto demolizioni signor a villorba dal 1969 al vostro servizio rotamazione auto vendita ricambi nuovi usati vendita auto vetture sinistrate o usate benvenuti al meteo tempo stabile ma si è aperta una settimana bollente con l'alta pressione africana sempre più forte sull'italia caldo in intensificazione e valori termici davvero elevati vediamo la situazione nel dettaglio sul veneto martedì 19 luglio tanto sole con ampi spazi di sereno a fronte al più di qualche locale cumulo pomeridiano in montagna ma assenza piogge clima rovente e affoso con temperature oltre la media stagionale minime tra 17 e 24 gradi massime invece comprese tra i 30 e i 35 gradi spostiamoci ora sul friuli venezia giulia sarà soleggiato con cielo in prevalenza sereno sui monti al pomeriggio poco nuvoloso temperature minime sui 21 24 gradi massime intorno ai 33 34 gradi infine diamo uno sguardo alla situazione del trentino alto adige anche qui sarà asciutto sole pieno e cielo limpido sgombro da nubi temperature minime intorno ai 20 21 gradi massime infine sui 36 all'incirca dal meteo di antena 3 per ora è tutto grazie per l'attenzione arrivederci autodemolizioni signor a villorba dal 1969 al vostro servizio rotamazione auto vendita ricambi nuovi usati vendita auto vetture sinistrate o usate dal prossimo caso alt'infine 4 15 18 19 19 18